Alcuni magi, sapienti astrologi, scienziati dell'epoca, grazie ai loro studi e alla loro arte nel saper scrutare il cielo dall'Oriente partono e si incamminano verso Gerusalemme, seguendo la stella del bambino che essi considerano re, re dei giudei e che vogliono anche venerare. È un cammino scaproso, lungo e bisogna andare in carovana, quindi non sono solo i tre magi che si muovono, e tutto un seguito di schiavi, di servitù e di vettovaglie da portare lungo il deserto per far attraversare il deserto e giungere a Gerusalemme. A Gerusalemme trovano una città fredda, indifferente, chiedono però informazione laddove doveva nascere il re dei giudei e c'è l'indifferenza del popolo. Strano, questo stato di cose si verifica anche oggi. Tanti dicono, va la stella, va Dio, chi lo sa se esiste e chi l'ha mai visto. Dio sono io sulla terra che faccio quello che voglio. E poi la scienza non accetta questa teoria di un Dio che manda la stella per guidare dei magi, dei sapienti. È la teoria subdola di negare tutto per far emergere se stessi e la propria scienza, le proprie ricerche. Spesso si risente quindi questo malcontento, questa supercritica, questo esporsi come superuomini. Tutto si accetta perché si accetta la crescita del proprio io e del proprio interesse. Questi magi arrivano da lontano e incontrano quindi il bambino Gesù. Naturalmente prima del bambino Gesù hanno incontrato il re Erode che aveva già fatto strage della moglie e dei figli per paura che gli togliessero il regno. Quindi Gesù, il re, secondo i magi, dava fastidio come davano fastidio i figlioletti piccoli di Erode e quindi decide di metterlo a morte e dice ai magi andate, onoratele, poi passate di qui e mi dite dove sta e così anch'io posso andare a onorarle. e la notte l'ancione del Signore avvisi i magi di ritornare nelle loro terre per altra strada. Con l'Epifania noi celebriamo l'immensa apertura della salvezza a tutti i popoli. Basta pensare che gli ebrei insultavano, offentevano gli altri popoli che circondavano la Palestina. Per voi non c'è salvezza perché voi siete destinati alla morte eterna. Noi soltanto scelti dal Signore abbiamo il diritto di accedere al paradiso, alla gloria. E l'Epifania che cosa fa? Apre questo orizzonto e include tutti i popoli della Terra nell'amore di Dio perché tutti i popoli della Terra sono creatori di Dio. Quindi viene sconfitto questa concezione nazionalistica degli ebrei e l'Epifania apre le porte del regno di Dio per tutti. Questo è un avviso a tutti noi ad avere un cuore aperto, un cuore di salvezza sia per gli estranei, per gente di altre religioni, pregare per tutti e sia per gli stessi peccatori. Non dimentichiamoci che Gesù ha pregato per gli stessi crocifissori. Noi sull'esempio di Gesù dobbiamo avere un cuore aperto, un cuore di pace, di amore, di serenità e di fratellanza per tutti i popoli.